Benvenuti a tutti ragazzi bentornati nel mio canale, questo oggi siamo su un video e siamo in un video molto particolare quest'oggi Oggi io vi volevo parlare di quello che sta succedendo diciamo con il canale Da una settimana che io non porto video come ben sapete E purtroppo io come sentito alla voce sono stato male ma molto male 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 Ho avuto la febbre a 40 poi ho tuttora l'influenza, sono andato a finire all'ospedale E niente l'aga Se io non ho portato video in questa settimana mi dispiace tantissimo ma tanto 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 Perché io ci tengo troppo a fare video perché mi diverto, mi diverto tantissimo troppo E non portare video che a me piacciono, personalmente piacciono come la videocarrera, la videocarrera allenatore Mi è dispiaciuto davvero tanto E niente l'aga, da domani penso di ritornare come prima Perché sto vedendo che la carriera sta andando molto 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 bene E sono davvero strafelice di questa cosa Io mi sono preso pure questa pausa Anche perché io voglio riflettere molto su quello che voglio fare Perché io ho bisogno dei vostri consigli per portare altri video Non so, su FIFA 19, su Fortnite, su qualsiasi gioco che volete voi E niente l'aga, spero che il video vi sia piaciuto Spero che capite quello che ho passato io in questi giorni E che vi scusate se ci sono state queste assenze sul canale E niente l'aga, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su Mi fate sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione E ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi